Questo è il spettacolo, questo andando, com'è? Beh, mi sembra bene, è una stazione a zero, ma sono bravi tutti. Quindi consigliamo agli ascoltatori di Radio Inn di venire a teatro a vederlo. Venire a teatro a vederlo perché passano un'ora, un'ora, un'ora e mezza, un'ora e mezza divertente. Noi lo stiamo guardando ed è divertentissimo. E per Natale ci vediamo. Ciao. Ciao.